Aneddoti, ricordi, luoghi, personaggi. Tutto questo è quello che l'autore ha scritto nel suo lavoro letterario. Tutto questo quello che ha poi raccontato attraverso la sua viva voce alla presentazione del libro Il Tempo Felice, a liberi davanti a una platea attenta e divertita per le tante spicolature che sono poi emerse da luoghi e personaggi del passato, perché di questo si tratta. Un periodo, partiamo dagli anni Sessanta, nel quale saremo in tanti a rivederci se solo riavvolgessimo il nastro della nostra vita, almeno per quelli con qualche stagione in più. Presenti il sindaco di Liberi Diana e il presidente della Prologo Mimmo Frazzo, che hanno poi premiato l'autore e la giornalista Marie-Lou Musto del Mattino, e naturalmente Giovanni Solda, l'autore, che abbiamo sentito a margine dell'evento e sentite che cosa ci ha detto. Il Tempo Felice, Giovanni Michele Solda, da cosa nasce questo libro? Ma questo libro nasce dal desiderio di voler raccontare un po' della nostra storia, del nostro passato, dei mestieri che non ci sono più, degli oggetti che non ci sono più, della vita sociale che non c'è più, di tante cose che ci siamo lasciate alle spalle, forse troppo in fretta, con troppa velocità, di cui oggi forse ci pentiamo un po', io per esempio volentieri ritornerei un po' indietro, insomma abbiamo tante di quelle cose oggi che non riusciamo neanche a godercele, mentre eravamo felici quando avevamo pochissimo, e quindi per questo io l'ho chiamato il Tempo Felice. Racconta di gettoni, di cose che non ci sono più, mangia dischi? Sì, mangia dischi, questa è una cosa bellissima perché non c'erano gli sterili di adesso, tutte le architetture che abbiamo tecnologiche, le apparecchiature tecnologiche di oggi, e allora andavamo con i ragazzi e le ragazze con un mangia dischi, ci chiudevamo in una stanza, e si ballava in lento Tanta voglia di lei, dei Pum, perché nel 68 per esempio andava molto in voga, e rigorosamente il ballo della mattonella perché si voleva solo stringere tra ragazzi e non altro, insomma, e quindi tante cose abbiamo lasciato alle spalle che non ci sono più. Questo libro lo si può comprare in libreria Mondatori Book, alcune librerie ce l'hanno nella zona, e poi da settembre sarà su Amazon e su Ebay, poi il libro ha un codice ISBN per cui ogni libreria può eventualmente prenotarlo, ordinarlo e quindi lo può dare al cliente che lo chiede.